Oggi, primo luglio 2020, è uscito finalmente l'eco bonus al 110%. Peccato però che sia una bufala. Non volevo essere così duro nella parte iniziale del video, però effettivamente che è iniziato il 110% oggi, primo luglio 2020, è una bufala. Infatti non è una bufala il 110% di per sé, ma è una bufala il fatto che sia iniziato oggi, primo luglio, come tanto promesso da tutti quanti. Perché? Perché mancano ancora le linee guida da parte delle agenzie delle entrate, ma ancora di più mancano i decreti attuativi da parte del governo, per poter attuare tutto quello che è stato scritto nel decreto. Nel frattempo però sono usciti diversi contributi e aiuti per gli italiani. Sono usciti 3 miliardi per l'Alitalia, o meglio per la nuova compagnia, che forse prenderà il posto dell'Alitalia. E sono usciti i contributi per le bici elettriche. Sono usciti i contributi per i nonni, per coloro che non hanno avuto la possibilità di avere una BBC. Allora io dico, va bene aiutare le famiglie, però i nonni tengono i loro nipotini per amore, non per soldi. Allora, perché invece di continuare a dare micro-contributi alle famiglie, non diamo veramente la possibilità di rendere autonome le famiglie, quindi nel risparmiare, nel pagare meno sulle bollette, grazie agli interventi di efficienza energetica, e aiutiamo a creare posti di lavoro, e aiutiamo a creare lavoro per le nostre aziende italiane, invece di dare questi micro-contributi? Ormai parliamo già da mesi di questo super eco bonus del 110%, mi sembra quasi da maggio in cui è stato lanciato, che dal primo luglio sarà effettivo. Peccato che però non si sia avverrato nulla di questo, bloccando ovviamente le famiglie nel loro sogno di mettere mano alla loro casa, e bloccando anche migliaia di aziende che operano in questo settore. Allora oggi voglio darti il mio punto di vista, che è solamente il mio pensiero sul perché al primo luglio non siamo ancora pronti per applicare questo eco bonus del 110%. Non vorrei trovare per forza della mala fede in tutto questo, però l'idea che mi sono fatto è la seguente. Da una parte vedo che ritardare l'applicabilità del 110% permette allo Stato di non partire con i lavori già quest'anno. Mi spiego perché. Ipotizziamo una famiglia che voglia fare un intervento di riqualificazione energetica, quindi installare il cappotto nella propria abitazione, cambiare gli infissi, installare un impianto fotovoltaico e magari una pompa di calore anche per riscaldare la sua casa con l'energia elettrica. Siamo al primo luglio, probabilmente fino a metà fine luglio non uscirà nulla. Poi arriva agosto che è un mese perso, tipicamente perché tra fornitori, imprese e famiglie la maggior parte sono in ferie. Si partirà a settembre, però sappiamo bene che alcuni lavori edili, come quelli del cappotto e dei seramenti, non possono essere fatti in pieno inverno, nella maggior parte dei casi. Significa che da novembre a febbraio tutto sarà fermo. Cosa significa? Significa che molte famiglie che potevano aver diritto a degli incentivi già nel 2020 non potranno usufruirne. Perché? Perché questo ritardo porterà allo slittamento di tutti i lavori nel 2021. Cosicché lo Stato ha già risparmiato i suoi primi soldi nel 2020. La mia visione invece per quanto riguarda lato imprese è che vedo uno strapotere da parte delle aziende più grosse che hanno già contrattualizzato migliaia di contratti per il futuro con l'eco bonus del 110% e che però hanno poca mano d'opera. Cosa sta succedendo in questo periodo? In questi mesi le piccole e medie imprese non riescono a lavorare. Perché? Perché tutto è fermo, perché tutti aspettano l'eco bonus del 110%. Aspettando, la piccola e media impresa rischia di soffocare perché non ha liquidità, non ha ossigeno per poter rimanere aperta. E quindi si vedranno costrette le piccole aziende a lavorare per le grosse aziende pur di sopravvivere. Ecco, io non voglio metterci il mala fede in tutto questo, però, guarda caso, queste cose si stanno piano piano incastrando. Ecco allora, questo è solo il mio punto di vista. Ecco che allora le persone di buonsenso avrebbero preparato un pacchetto chiamato 110%, avrebbero messo in fila le regole e le procedure per realizzarlo e poi lo avrebbero reso pubblico ai cittadini in modo che tutti potessero applicarlo. Invece in Italia cosa è successo? È stato lanciato come un sasso il 110% senza sapere nemmeno minimamente come realizzarlo. E siamo qui ancora fermi al primo luglio aspettando che qualcuno ci dica cosa fare. mentre paradossalmente giornali e telegiornali da oggi dicono che il 110% è effettivamente partito.